Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli in Rione Sanità per garantire il ripristino della normalità dei comportamenti e per contrastare l'illegalità diffusa. Significativo il bilancio delle ultime due settimane di controlli compiuti dai motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli e dai militari della Compagnia Stella. Focus sulle due ruote con 191 veicoli controllati e ben 378 contravvenzioni al CDS. 104 le sanzioni per guida senza casco e altrettante quelle per mancanza di copertura assicurativa. 16 le persone che sono state sorprese alla guida di veicoli già sottoposti a sequestro. Impressionanti i dati su fermi e sequestri amministrativi, provvedimenti che possono convivere e possono essere applicati contemporaneamente sul medesimo veicolo. 134 i fermi amministrativi, 113 i sequestri. 49 le persone contravvenzionate per guida senza patente. 11 quelle denunciate dall'autorità giudiziaria perché recidive nel biennio. 9 le persone sanzionate per inottemperanza all'alt. Anche minori nella lista delle persone multate. Sono 14 quelli trovati a bordo di ciclomotori senza casco e copertura assicurativa.